Ciao a tutti! Oggi iniziamo la quarta settimana dei prodotti che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento di Degusta Box. Se non sapete a cosa mi sto riferendo, vi rimando ai tre video precedenti a questo in cui vi spiego meglio le cose. In breve proviamo ogni prodotto che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento con la ricetta che viene consigliata dal sito di quell'alimento. Quindi per esempio se noi prendiamo Mutti, andiamo sul sito di Mutti e scegliamo quale sono le ricette abbinate. E ne proviamo a fare una insieme. Abbiamo fatto altre tre settimane che trovate sul canale, adesso abbiamo la quarta e ultima. 18, che però è crollato giù e l'avevamo già intravisto quando abbiamo aperto il 9. Un altro prodotto Mutti triplo concentrato di pomodoro. Partiamo proprio non a caso con Mutti. Mutti l'avevamo già visitato come sito perché avevamo trovato appunto la passata di pomodoro, però abbiamo trovato anche il concentrato di pomodoro. Se andate sul sito di Mutti trovate un sacco di ricette consigliate con ogni singolo prodotto e loro producono. Con la passata di pomodoro io ho scelto di fare le girelle lievitate al pomodoro e mi voglio mettere molto alla prova con voi perché partiremo dall'invenzione della ruota, cioè faremo letteralmente la pasta per fare la girella. Vi avverto che io con i lievitati non sono tanto brava. Per la nostra ricetta serve 250 g di farina per pane, 150 ml di acqua, 4 g di lievito di birra in polvere, questo non è il lievito di birra ma spero vado bene uguale, un cucchiaino di olio, mezzo cucchiaino di sale, 4 o 5 cucchiai di triplo concentrato di pomodoro Mutti, che è il nostro protagonista, poi abbiamo 30 g di parmigiano origano secco. Passo numero uno, sciogliere il lievito in acqua. Dopodiché va unita l'acqua con il lievito, l'acqua normale con la farina. Lui lo fa con la planetaria ma noi la planetaria ce la sogniamo la notte, quindi lo faremo a mano. La pasta diciamo che è più o meno fatta, ora ci va aggiunto un cucchiaio di olio e impastato. Va unito anche il sale. Diciamo che questo è l'impasto fatto, che non si sa se è fatto bene, perché io sono abbastanza incapace in questo senso. Lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo in forno, a forno spento ma leggermente riscaldato, per circa un'ora e mezzo. Dopo un'ora e mezzo abbondanti, questa è la palletta, che vi dirò la verità, non mi sembra già partita bene, perché mi sembra che non sia levitata praticamente per niente. Adesso va spianata la pasta, lo stesso diceva di farlo con le mani, io l'ho fatto col mattarello onestamente. Sopra ci va messa il parmigiano che ho tentato di grattugiare, l'origano, ma soprattutto è fondamentale il triflo concentrato di pomodoro. L'abbiamo farcito e adesso dice di chiuderlo, arrotolarlo stretto, incominciando dal lato lungo. Rotolo, fatto. Ok, il prossimo passaggio è tagliarlo a strisce di circa 2 cm e metterlo su una teglia, le vestite da carta da forno. L'abbiamo fatto, non so se è eseguito correttamente, comunque sostanzialmente adesso va lasciato rilievitare così per un'altra ora. Queste sono le girelle dopo un'ora, forse anche un'ora e venti. Adesso vanno messe in forno, 180 gradi già riscaldato, per 25 minuti. Secondo me non sono lievitate per niente, probabilmente ho proprio sbagliato il tipo di lievito. Questo è il risultato finale e adesso non resta che assaggiarli. Proviamone uno velocemente insieme, ne proviamo un pezzettino sì, proviamone uno grosso, va? No, con questa ricetta qualcosa è andato storto, ma non è colpa della salsa mutti, del concentrato di pomodoro e mutti. Ma è diventato una specie di biscotto, ho sbagliato ricetta, ma è colpa mia, ve l'ho detto e con gli evitati non sono un granché. 19, wow, abbiamo una birra, Angelo Poretti e Sette Luppoli. Il secondo alimento che abbiamo trovato è la birra Poretti. Nel nostro caso abbiamo trovato una birra Sette Luppoli, la Nielizia. E devo dire che però, a parte la birra in specifico, il sito di Angelo Poretti mi ha veramente lasciato sorpreso. In positivo, perché ha tantissime ricette dentro, che sembrano anche molto molto sfiziosi, devo essere sincera. E potete scegliere quale specifica birra abbinare e se utilizzare la birra come alimento, nel senso per cucinare la ricetta, oppure come degustazione, quindi da bere insieme a quel piatto. In questo caso, oltretutto, le ricette mi lasciano veramente a bocca aperta, perché sembrano veramente molto molto gourmet. Alla fine ho scelto di fare la birra di degustazione e ho scelto una cosa che in realtà invece conosciamo molto bene, perché compriamo abbastanza frequentemente, ovvero vogliamo provare a fare l'abbinamento della birra Sette Luppoli con i testaroli al pesto. Il pesto proveremo a farlo noi, i testaroli li abbiamo comprati da Italy. Per fare la nostra ricetta serve testarolo, olio, pecorino sardo, aglio, pinoli, basilico e sostanzialmente con questi ingredienti andiamo a fare un po' di pesto. Per gli amici genovesi chiedo scusa in partenza, però noi non ce l'abbiamo mortaio per fare il pesto, quindi lo faremo col frullatore. Qua invece abbiamo l'acqua a bollire per cuocere i testaroli, mentre aspettiamo che l'acqua bolla abbiamo tagliato il testarolo che va tagliato a rombettini. Il pesto diciamo che anche se blasfemo ma è pronto, qui abbiamo l'acqua che praticamente bolle, il testarolo va buttato in acqua per 60 secondi e poi scolato immediatamente. Li abbiamo scolati, sono pronti, adesso il regista le condisce. Siamo pronti a versare la nostra birra Poretti. Questo è il colore, i testaroli sono questi. Qui abbiamo la birra, non resta che assaggiare. Facciamo un assaggio veloce e poi mi metto a mangiare seriamente. Testaroli. Non è venuto male. Anche il pesto è accettabile ma noi siamo qui per assaggiarci la birra. Non è male. Non è buono. Ci sta bene. Molto fresca. Molto dolce, si sente il miele. Testarolo ci sta bene, sì. Siamo alla 20. Ok, ok, questa è pasta di acciughe. Il terzo ingrediente che abbiamo trovato nel nostro calendario dell'avvento è un ingrediente particolare, ovvero la pasta di acciughe Angelo Parodi. Allora, questo è un ingrediente secondo me particolare perché non a tutti potrebbe piacere la pasta di acciughe. A me onestamente piace, il sito Angelo Parodi ha delle ricette consigliate e con la pasta di acciughe io ho scelto una cosa che mi sembra molto sfiziosa, cioè le frettelle di cavolfiore e acciughe. Anche questa dita incruciate perché è una profurazione che potrebbe mettermi alla prova, insomma anche qui si tratta di usare lievito, farina, impasti, fermentazioni, speriamo bene. Per la ricetta della pasta di acciughe ci servirà 350 g di farina 00, 150 ml di acqua, 3 g di lievito di birra secco, ma noi lo abbiamo solo così, 200 g di covolfiore lessato, mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaino di olio extravergine di oliva, 20 g di pasta di acciughe che è la nostra protagonista e poi l'olio per friggere. Mettiamo alle sale il cavolfiore. Messo a bollire il nostro cavolo. Allora, il cavolo è cotto e sembra bello morbidino, vi chiedo scusa perché ho acceso la lavatrice ma ora ho mai più. Ho preso tutti gli ingredienti, quindi pasta di acciughe, farina, acqua e ci ho messo dentro il lievito, sale, olio e cavolfiore schiacciato. Adesso va assemblato tutto. L'impasto direi che è pronto, deve rimanere umido e bisogna coprirlo e lasciarlo riposare per circa due ore. Qua abbiamo la nostra pasta, stavolta almeno è lievitata, anche se io l'avevo vista male perché non sembrava aumentare per niente, invece a un certo punto ce l'ha fatta. A questo punto dobbiamo sostanzialmente dividere delle pallette di questa pasta e friggerle. Ci sono già i primi problemi, sto cercando di fare queste palle di pasta, ma questa pasta è veramente molto liquida, quindi non si modella tanto facilmente. Scusate se non ho ripreso più niente, ma semplicemente ho messo in padella la pastella a pallette e l'ho cotta nell'olio. Le prime le ho fatte piccoline, così. Quell'altra poi ho iniziato a crescere un po' forse anche perché mi ero rotta, alcune sono un po' più cotte, altre meno. Sentiamo come sono. Assaggiamone una. Mi piace. È praticamente un passafritto, ma aromatizzato al tavolo, un po' all'acciuga, si sente il suo retro gusto, però molto delicato. Non è sicuramente la cosa più leggera da mangiare sulla faccia della terra, visto i soffritti, però buono. Andiamo col 21. Alpenlibe. Come alimento ho trovato le Alpenlibe Soft Bio. In questo caso vi dirò la verità, io non ho trovato il sito internet, non so se non l'ho trovato io o se non esiste. Mi ha sorpreso perché Alpenlibe è una marca molto famosa, comunque ovviamente con le caramelline non c'è una ricetta abbinata, per cui semplicemente andiamo a assaggiarne una insieme. Scusate l'aspetto veramente orrendo e ridicolo per fare un video, ma facciamo un assaggino delle caramelline Alpenlibe. Questa è la caramellina incartata, questa è la caramellina non incartata. Allora, queste caramelline sono molto particolari, questa non è la prima che mangio, ne ho già mangiate alcune nei giorni scorsi. Quando l'assaggiate per lì, il primo impatto è negativo, poi piano piano, masticandolo, iniziando a sciogliersi, libera. Il gusto di caramella, questa consistenza morbidina, insomma, delle Alpenlibe, che la fa diventare una via di mezzo per una cingomma, una caramella, e secondo me il rischio è di diventare una droga, cioè io mi devo sforzare di non mangiare tutto il pacchetto, tutto insieme, e di fermarmi a una, perché ne vorrei immediatamente mangiare un'altra. 22! Ok, è un succo di melagrana, antiossidante naturale. Poi abbiamo trovato un zucchino di frutta della Lome, che è la marca che io onestamente è la prima volta che scopro, si chiama Lome Super Fruit. Il zucchino non ha una ricetta abbinata, però c'è un sito internet, questi zucchini sembrano promettenti. Però il succo lo proveremo come una merendina, insieme all'ultimo alimento che abbiamo trovato nella Degusta Box, quindi non lo vedete immediatamente ora, ma fra un paio di assaggi. Numero 23! Crema spalmabile, sì, con riso e senza lattone. Creme spalmabili scotti. Esiste un sito internet, però non ci sono delle ricette abbinate. Ora, onde evitare di mangiare la crema spalmabile a cucchiaiate, ho preso l'iniziativa di abbinarla con delle crepes. Oggi andiamo a provare la crema senza lattosio di scotti con le crepes comprate al supermercato. Ho colato la crema da tutte le parti, però queste sono le nostre crepes. Andiamo a assaggiare... Buona! Molto, molto buona. Il sapore è molto simile alla Nutella, sostanzialmente. Infatti sia senza lattosio non si sente. Buonissima! Quattro e ultima casella. Uuuuh, un'altra sfiziosità! Laika, arancia, cannella e perperoncino. Arriviamo all'ultimo alimento, ovvero i cioccolatini di Laika. Ce ne sono di tanti tipi, caffè, latte e cereali. In questo caso esiste un sito, ma non ha ricette abbinate, quindi noi andiamo a assaggiarli semplicemente col zucchino, con una merenda. Direi di provare la nostra merendina. Direi che è il giorno giusto e il posto invece probabilmente non è giusto perché sono sul letto, ma sul tavolo è tutto infarinato perché sto facendo della pasta. Ho versato il zucchino e i cioccolatini abbiamo un problema, ovvero che dovevano essere misti, però ci sono solo arancia e cannella. Io le ho già mangiate e ne ho assaggiato uno al peperoncino, ma evidentemente era l'unico che c'era perché mio fidanzato dice non l'ha mangiati. E quindi io ne ho mangiato uno e quell'altro evidentemente sono arancia e cannella. Comunque, siccome l'ho assaggiato vi dico cosa ne pena. Intanto assaggiamo il zucchino. Mi sa che il succo alla melograna non mi piace proprio, è tutto acido. E ha un ritrogusto tipo di radice che proprio non è che mi piaccia molto. Proviamo il cioccolatino. Il cioccolatino è buono. È tipo la parte esterna, credo sia cioccolato. La parte interna sa di arancia. Non è un'arancia troppo forte, è un mix tra cioccolato e arancia. E è buono ovviamente se vi può piacere l'arancia. Non è l'aromatizzazione che più ambisco nel cioccolato. Sono più ghiotta di altri tipi di gusto, tipo nocciola, gianduia, queste robe qui. Però è buono. Quello del peperoncino era molto particolare. Perché all'interno aveva il sapore un po' di peperoncino. È leggermente piccante. Per lì non si nota. Però a forza di masticarlo, poi invece libera questa leggera pizzicosità che è particolare. E con questo abbiamo finito la nostra quarta e ultima settimana delle ricette del calendario dell'avvento di Degusta Box. È stata una sfida lunghissima, ha preso un sacco di tempo. Nel senso che per organizzare ognuno di queste ricette, guardare i siti, aspettare di aver aperato tutto il calendario dell'avvento, è durato veramente mesi. Però è stata divertente. E tra l'altro a me è piaciuto il calendario dell'avvento di Degusta Box. È stato un bel acquisto. L'ultima settimana un sacco di cose carine da mangiare. Devo dire che mi sono piaciute molto, 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 molto le Alpe Libe. Mi sono piaciute molto la crema spalmabile Scotty. E devo dire che mi è piaciuta molto la ricetta con la pasta di acciughe che abbiamo fatto. Invece devo dire che non mi è piaciuto molto l'ome, super fruit e succo di melograno. Perché credo che non mi piaccia proprio il succo di melograno. Sono rimasta un po' male dei cioccolatini. E ce n'era solo uno, il peperoncino, ma come? Però buoni da mangiare. E niente, con questo è tutto. Se avete domande lasciate un commento. Se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!